In Iraq i jihadisti attaccano la maggiore raffineria del paese e l'ISIS, lo stato islamico dell'Iraq e del Levante, ha completamente stravolto il modo di intendere il jihad, la guerra santa. Dopo aver svuotato i forzieri delle banche di Mosul, adesso punta al cuore della cassaforte petrolifera irachena. I combattenti hanno lanciato mercoledì all'alba un attacco contro la principale raffineria irachena a nord di Baghdad. I combattimenti sono cominciati alle quattro ora locale, le due in Italia, nella raffineria di Baji, nella provincia di Salaheddin. I jihadisti controllano settori della provincia da una settimana. Gli assalitori hanno distrutto riserve di petrolio prima di entrare nel complesso. Il premier al Maliki e le autorità locali non sembrano in grado di far fronte alla minaccia e intanto ISIS dilaga. Fare la guerra anche sessanta costa e ISIS dispone di cash flow, una disponibilità di denaro contante enorme, superiore ai due miliardi di dollari. A fronte di questa organizzazione a poco potrebbero servire i volontari sciiti che in queste ore si raccolgono a Baghdad.